Fede Zellunga ex ospiti di C'è posta per te il 3 febbraio 2018, si scioglieranno in lacrime? Fede Zellunga ex I due artisti saranno di certo il regalo speciale per una persona speciale e immaginiamo che potrebbero anche sciogliersi in lacrime. Del resto Fede Zellunga ex è famoso per i suoi pianti in tv anche perché è un ragazzo davvero molto sensibile e il fatto che stia per diventare papà potrebbe facilitare la lacrimuccia facile. Fede Zellunga ex vedrà questa puntata di C'è posta per te dagli Stati Uniti, è infatti volato a Los Angeles con la sua compagna Chiara Ferragni. Lì nascerà il piccolo leone e poi si tornerà in Italia per le presentazioni, non sappiamo quindi, visto il fuso, se Fede Z si divertirà anche a commentare la sua ospitata alla corte di Maria ma di certo ci sarà chi lo farà per lui, incluso il lunga ex, che invece con Maria, ha tutto un altro rapporto, e non è una battuta. C'è posta per te ospiti e anticipazioni del 3 febbraio 2018, alla corte di Maria arrivano anche Fede Zellunga ex i due cantanti non saranno i soli ospiti della puntata di C'è posta per te in onda il 3 febbraio su canale 5. Infatti, come rivelano le anticipazioni, nella prossima puntata del programma ci sarà anche Carlo Conti, per il presentatore si tratta della prima volta alla corte di Maria. Non poteva dire di no alla conduttrice dopo che lei si è immolata al suo fianco lo scorso anno sul palco dell'Ariston per una edizione da record di Sanremo. Vedremo che cosa succederà e vedremo anche se Maria lancerà qualche frecciatina a Fede Z per rispondere alle battutine del rapper. Appuntamento quindi a domani su canale 5 per seguire una nuova emozionante puntata di C'è posta per te. Il nostro consiglio, anche per questa settimana, è lo stesso, preparate i fazzolettini. Il nostro consiglio, anche per questa settimana, è il nostro consiglio, anche per questa settimana, è il nostro consiglio, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.